È un accessorio tanto odiato, ma tanto spesso sconosciuto. I caschi fermano anche la corrente elettrica, hanno diverse tipologie di corrente. Qui è già presente una serie di informazioni, scadenza e voltaggio, è veramente fondamentale. La plastica invecchia, ha una sua vita, ecco perché c'è una scadenza. Su questa parte della visiera compaiono dei dati spesso sconosciuti, il tipo di materiale con cui è fatto il casco, gli orologi che a volte sono separati o anche un unico. Con indicate il mese e l'anno di costruzione. Questo casco compare 04 aprile del 2019. Da questo, contando 5 anni, quindi aprile del 24, quello è il casco come scadenza. Altra indicazione spesso che non sanno le persone, perché una volta manca la formazione, oppure uno può dimenticare, ma è leggibilissimo che questo casco appaiono 440 volte. Quindi altrettanta lo ferma questo casco. Grazie. Grazie.